Buonasera a tutte e a tutti Come state? Spero vada tutto bene Vi do il benvenuto o bentornato sul mio canale Paolo Lofai ASMR E se ancora non l'avete fatto vi invito ad iscrivervi a questo canale Ora come ieri sera ho preparato un atmosfera abbastanza calda Questa parte è la luce che viene da lì Che è una piccola 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 appajour Per la lettura Perché? Perché questa sera andiamo a leggere Tornare a leggere questo libro di Andrew Faber Ti passo a perdere il libro che vi linko in descrizione Sperando di ricordarmelo Sono molto sincero, scusate Un po' di tapping E che potete eventualmente acquistare su Interno Poesia Non sono pagato per darvi così Indirizzarvi su Interno Poesia Semplicemente credo Credo fortemente Che il loro lavoro di divulgazione E che le proposte editoriali Sia molto 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 valido E in fondo io ho aperto questo canale Per raccontare storie O leggere articoli curiosi Condividere curiosità Arricchire la vita delle persone Con delle cose nuove, no? E in particolare a me piace Chi è in grado di consigliarmi film Serie tv, libri E vedere copertine nuove Cupertine vecchie Andare a spulciare all'interno dei siti Trovare i blog Di nicchia A me piace molto il concetto Della nicchia Trovare le perle Trovare i tre tesori All'interno di tutti quei contenuti Con cui ogni giorno I social O le pagine internet in generale Ci bombardano E tra questi E tra questi C'è anche interno poesia E tra questi contenuti Di nicchia Ma non troppo C'è anche questo libricino Di Andrew Faber E io consiglio questo video E anche questo libro A chi vuole passarsi un quarto d'ora Tranquillo E ascoltando E ascoltando Delle Poesie Semplici A mio avviso molto semplici Motivazionali Per certi aspetti In quanto poesie semplici Contengono anche Delle riflessioni Abbastanza semplici Non troppo Criptiche O approfondite Non ne darò Infatti Grandi Spiegazioni Perché No Non Sono poesie Che non ne necessitano Nel caso Dovessi accorgermi Che Quando vi leggo Abbia bisogno Di una Spiegazione O mi senti in dovere Di darla O Mi senti in dovere Di soffermarmi Su Su qualche punto Lo farò Se Sei un ragazzo Se una ragazza Che Ha bisogno Di Un po' di motivazione E Di Prendersi un momento Per accogliere Le proprie insicurezze Le Le proprie paure Ciò che sente Com'è Ingiusto All'interno del mondo Che Che La circonda Lo circonda Allora questo è il video Che Che fa per te Secondo me Ci potrebbero essere delle persone A me compreso Che Potrebbero Trovare I versi Di Alcune di queste Poesie Già sentiti Ed Ed è per questo Che sto facendo Questo preambolo Questa Premessa Prima di leggere Leggervi un po' di poesie Perché Io credo Siano Poesie per tutti E Però In questo Tutti Voglio escludere Quelle persone Un po' più nichiliste Un po' più ciniche Che Sicuramente Troverei Inadatte A un certo tipo di linguaggio E un certo tipo di registro Che viene utilizzato in questo libro Cominciamo A leggere Io mi vergogno di credere Che esistano persone In grado di scambiare una scollatura O d'un jeans più stretto Con la voglia di fare sesso Com'è se una donna Com'è se una donna Non fosse libera Semplicemente Di piacersi Senza avere la penche Minima intenzione Di voler provocare Io mi vergogno Di credere Che esistano Persone In grado di confondere La dolcezza Il sorriso La gentilezza Di una donna Per un misero Ecco Lo vedi Allora ci sta Mi vergogno di credere Che esistano persone In grado di paragonare Il loro sporco Desiderio Di sfogarsi Con la sua Felicità Poesia numero 2 di stasera Genitori Insegnate l'amore Ai vostri figli Genitori Insegnate l'amore Ai vostri figli Spiegate loro Che prima dell'amore Per qualsiasi altra persona Viene l'amore per se stessi Quello che Prepara le braccia Ad accogliere altre braccia Quello che insegna Che la solitudine è preziosa Anche se fa male Quello che insegna Che il dolore taglia Ma alla fine Non uccide Quello che insegna Prima di farcela insieme A farcela Da soli Genitori Insegnate L'amore Ai figli Raccontate loro Che l'amore È prigioniero Dentro gli occhi di chi ama E non finisce Su un telefonino O in una chat Per condividerlo Con gli amici Per vantarsi Di averne Presa un'altra Che una donna Quando si spoglia Racconta la sua storia Che il corpo di una donna Non è soltanto pelle Sangue o prividi E va ascoltato Quel corpo Gordeggiato E protetto Che da Una semplice Bravata Può nascere un disastro E arrivare tardi No Non è concesso Genitori Insegnate L'amore Ai vostri figli Facendogli capire Che Sei la mia donna È una frase pericolosa Che nasconda rabbia Facendogli capire Che la vita Si combatta A darmi pari E nessuno Si appartiene Se non vuole Nessuno Dei due Vince sull'altro Si vince Sempre E sempre Si perde Insieme Spiegate loro Che non basta Non tradire Con il corpo Per essere puliti Per essere fedeli Esistono Ferite Ben peggiori E sono quelle Che non devono succedere E sono quelle Che uccidono Per prime Genitori Insegnate l'amore Ai vostri figli Perchè imparino Perchè imparino Il significato Di volersi Di accettarsi Perchè lo possano Comprendere Raccontate loro Che l'amore Può ammalarsi Proprio come noi Di noia Di vita Di normalità Di normalità Questo vizio Che abbiamo Di chiedere miracoli All'amore Dimenticandoci Di dare L'amore nasce Amore Forte Lo si fa diventare insieme E più da ogni altra cosa Spiegate ai vostri figli Che l'amore può finire Se la storia è conclusa Se il momento è arrivato Lasciate Che vada a splendere altrove Bisogna avere il rispetto dell'amore E della persona Che ha saputo donarcelo Che ci è stata vicina Che ce l'ha messa tutta Ma non ce l'ha fatta Che un giorno Ha promesso Non davanti a un altare Ma dentro ai nostri occhi Dove l'anima respira Di prendersi cura Della nostra felicità Che ha arredato La nostra solitudine Di piccole attenzioni Insegnate ai vostri figli Ad avere cura dell'addio Che quando il dolore sarà finito Del ricordo pulito Di quell'amore Ne avranno bisogno Genitori Insegnate l'amore ai vostri figli Finchè siete in tempo Riempirli di attenzioni Non serve Amarli semplicemente Non basta più Perché qua fuori qualcosa Non sta funzionando Perché qua fuori qualcosa Di inspiegabile e pauroso Sta accadendo Qualcosa Va fermato E voi più di loro Ne avete il compito E voi Più di loro Ne siete Responsabili Responsabili Infine Un'ultima poesia Che voglio dedicare A tutti i papà Dato che è appena passata La festa del papà Si intitola I nostri Papà Ti vengo a prendere io Non preoccuparti Adesso riposati Ci pensiamo domani La macchina è a posto Te li do io I soldi che ti mancano Per il viaggio È pronta la cena Corri Ti ho messo il caffè in frigo Così quando torni Lo trovi freddo Non sarai un po' leggera Vestita così E la prossima volta andrà meglio Vedrai Vai piano Lo so che adesso ti manca E ti senti morire Ma passerà Ma passerà È un dolore infinito Ma sei più forte tu Mi vesto E arrivo Scegli una stella Che te la vado a prendere Non chiamare il tecnico Vengo io Sei bella quando sorridi Questi occhi Te li ho fatti proprio bene Tieni Mangialo tu Io non ho più fame Sei sicura che vada tutto bene? Fatti una bella doccia Così ti riscaldi Dammi il trolley Lo porto io Parto un po' prima Così quando arrivi Mi trovi in stazione Questo vestito Ti sta benissimo Sono stanco Andiamo Vieni a pranzo Ti aspettiamo Fammi solo uno squillo Quando arrivi Così posso mettermi a dormire Vorrei vederti sempre felice Come adesso Ho sbagliato tante di quelle volte Ma l'ho fatta soltanto per proteggerti Buonanotte Buonanotte A domani Quante volte i nostri papà ci hanno detto Ti amo senza che noi Ce ne rendessimo conto Buonanotte 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 Amici e amiche Grazie Per aver visto questo video L'ultima poesia secondo me Per i plettere Ascolterete in maniera diversa adesso Forse Quando i vostri Papà Vi parleranno